Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. L'Abruzzo si dimostra attrattivo e competitivo, riuscendo a richiamare professionalità con grande esperienza e competenza. L'adeguamento delle retribuzioni dei manager era un atto dovuto per riallineare l'Abruzzo alle altre regioni italiane. Un adeguamento che hanno fatto tutte le regioni. Solo l'Abruzzo era rimasto fermo, a tal punto da scoraggiare che aveva i requisiti e le capacità per accettare l'incarico e assumere questa funzione di direzione. Sono le parole del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che ieri ha presentato i due nuovi direttori generali delle ASL di L'Aquila, Vezzano, Sulmona e di Chieti, Lanciano Vasto, rispettivamente Roberto Testa e Thomas Scael. Si è tenuta ieri a Palazzo Silone, all'Aquila, una seduta di giunta presieduta dal Presidente Marco Marsilio. Su proposta dell'assessore Nicola Campitelli è stato assegnato un contributo straordinario al Comune di Pesco Sansonesco per l'importo di un milione di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali urgenti di accesso al Santuario del Santo Nunzio sul Prezio. La somma sarà erogata attraverso tre rateizzazioni, le prime due del 30% dell'intera somma, cada una, e l'ultima quota a saldo pari al 40% da corrispondersi all'invio della documentazione di collaudo dell'opera. Sono state inoltre approvate, su proposta dell'assessore Piero Fioretti, le linee guida per programmare interventi a sostegno delle condizioni di non autosufficienza. La regione è destinataria ad un importo complessivo di 11.102.870 euro. La somma è ripartita con le seguenti modalità. Il 50% è utilizzato secondo i criteri previsti per il riparto delle risorse destinate ai piani distrettuali sociali, mentre l'altro, il 50%, è destinato agli interventi rivolti alla disabilità gravissima anche con riguardo a soggetti a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e persone affette dal morbo di Alzheimer. Sono 173.096 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che il prossimo 16 settembre, data ufficiale stabilita dal calendario regionale abruzzese, torneranno in Aquila, anche se alcuni già lo stanno facendo perché c'è l'autonomia scolastica e quindi la possibilità per ogni consiglio d'istituto di stabilire una propria data di ritorno sui banchi. Lo rende noto l'ufficio scolastico regionale, 51.544 sono gli studenti della provincia di Chieti, 45.154 quelli della provincia di Pescara, 39.854 gli studenti nella provincia di Teramo e 36.544 gli studenti della provincia aquilana. Rispetto al precedente anno scolastico è stata rilevata una contrazione, cioè un calo, di 1.639 alunni. Da questo è scaturita una riduzione di sole sette classi. A Chieti è stata registrata una diminuzione di 710 studenti, 319 nell'Aquilano, 312 nel Pescarese e 298 nel Teramano. Sono terminate le assunzioni del personale docente, educativo e ATA, con l'immissione in ruolo di 741 insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui 107 di sostegno. Il 94% del corpo docente è costituito da insegnanti di ruolo, il 6% da docenti a tempo determinato, il dato è in controtendenza nazionale. Escontro tra Silvia Barbagallo, direttrice artistica del Festival degli Incontri all'Aquila, e il sindaco della città Pierluigi Biondi, che vuole un confronto sulla presenza in cartellone di Roberto Saviano e Zero Calcare. Il Festival internazionale degli Incontri 2019 nel cartellone di eventi finanziato con 700 mila euro dal Ministero dei Beni Culturali per il decennale del terremoto. Il Festival sarà gestito, come stabilito dal MIBAC, dall'istituzione sinfonica abruzzese. A poche settimane dall'inaugurazione, il sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, si fa vivo manifestando l'intenzione di voler condizionare il supporto operativo del Comune, proponendo l'esclusione di alcuni ospiti a lui sgraditi, tra cui Roberto Saviano e Zero Calcare, chiedendomi un bilanciamento politico del programma con nomi a lui graditi, esercitando così di fatto una censura politica sugli indirizzi culturali, commenta la Barbagallo. È il segno di una visione autoritaria del rapporto tra la politica e la cultura, un'invasione di campo della politica che mette bocca dove non dovrebbe la scelta degli ospiti e dei contenuti per una manifestazione interamente finanziata dal Ministero. Ho detto che questa è la posizione della Barbagallo. Replica invece il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Ho detto che visto che i soldi per il decennale del terremoto li gestisce il Comune, che poi le eroga all'istituzione sinfonica, il programma degli eventi deve essere concordato con il Comune, cosa peraltro sottoscritta nel verbale del Comitato di indirizzo, sottoscritto anche dalla Barbagallo, che in più al momento non ha ancora avuto il piacere di conoscere. Il minimo sindacale è che si sieda con me e ragioni sugli eventi. Voglio un calendario plurale e inclusivo. La situazione finanziaria delle partecipate Autoservizi Cerella SRL e Sistema SRL rischia di avere delle ripercussioni gravissime su Tua S.P.A., la società unica dei trasporti abruzzesi. Per Gianfranco Giulianti, che di Tua è il Presidente, bisogna correre subito ai ripari, specie per la salvaguardia dei posti di lavoro. Due esempi eclatanti di passata malagestio, secondo Giulianti, appaiono in queste ore alla ribalta. Si tratta dei casi della Sistema SRL e dell'Autoservizi Cerella SRL. Gianfranco Giulianti spiega. In particolare quest'ultima, oggetto di un salvataggio capestro con la complicità della politica del sindacato a fine 2018, può considerarsi, a distanza di pochi mesi dalla ricapitalizzazione imposta dalla Giunta regionale di centro-sinistra con deliberazione numero 980 del 15 dicembre 2018, è costata Tua S.P.A. 500.000 euro, tecnicamente in default. La ricapitalizzazione, spiega ancora Giulianti, è avvenuta il 27 dicembre 2018, poco meno di nove mesi fa. Dopodiché, nel CDA di Autoservizi Cerella SRL del 10 settembre 2019, il collegio sindacale ha espresso parere negativo sul bilancio semestrale, chiedendo l'istituzione di un fondo rischi per il valore del contenzioso con la Regione Abruzzo. Tale operazione comporterebbe, spiega sempre il presidente di Tua S.P.A., l'erosione dell'intero capitale sociale e conseguentemente la messa in liquidazione, successiva decozione della società Cerella. Nella seduta di ieri, peraltro, tre membri del Consiglio di Amministrazione di Autoservizi Cerella SRL, si sono dimessi. La stessa società, inoltre, è stata oggetto di diffida da parte di uno dei vettori che opera in associazione temporale d'imprese di un ristoro pari a 356.000 euro. E si terrà in questi giorni la festa parrocchiale della parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo crocifisso a Villaggio Alcione, a Pescara. Tra gli eventi in programma, venerdì 13 settembre, ci saranno alle 16.30 la liturgia penitenziale con adorazione della croce e possibilità di confessarsi e alle 19 la Santa Messa. Mentre sabato, alle ore 17.30, nella chiesa parrocchiale, si terrà la conferenza del professor architetto Carlo Pozzi sulla progettazione e realizzazione della chiesa parrocchiale. E alle 19 ci sarà la Santa Messa solenne con la partecipazione dell'Unitalsi e dei malati della parrocchia. Accanto al programma religioso si terrà anche un ricco programma civile. Oggi è giovedì 12 settembre. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Gianpietro Pittarello e a Don Mario Fragassi. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 18 a 25 gradi e venti da deboli a moderati sulla costa e deboli nelle zone interne. Il mare è previsto poco mosso. Con queste previsioni del tempo ci salutiamo. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penni. Grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.